Bentornati, questa era una delle nostre new hit e per chi ci guarda e non ci ascolta avrete già notato che abbiamo un ospite in studio questa mattina. Sì, in questa seconda ora la cominciamo in maniera diversa con in studio Nicoletta Siliberti, direttrice del carcere di Turi, vice direttrice del carcere di Taranto, con cui oggi affronteremo proprio il racconto delle iniziative a favore dei ritenuti, ma più in generale anche del mondo che c'è all'interno di queste strutture per intenziali. Buongiorno e benvenuta. Buongiorno a tutti, grazie per l'invito. Allora, partiamo dalla fine. Nei giorni scorsi abbiamo raccontato di questo nuovo progetto della pasticceria che in carcere è una delle tante iniziative che vengono fatte in qualche modo a favore dei detenuti. Sì, allora partiamo da quest'ultimo progetto, parliamo della casa circondariale di Taranto, dove da qualche anno è stata aperta una pasticceria con della strumentazione all'avanguardia grazie all'utilizzo dei fondi Exilva. E in questi anni con la cooperativa Noi e Voi è stato avviato questo progetto, questo laboratorio che sta crescendo e con questo laboratorio, con l'attività di questo laboratorio, crescono anche le opportunità di lavoro e di professionalizzazione delle persone detenute all'interno della casa circondariale di Taranto. In particolare, nella scorsa settimana abbiamo avuto il piacere di ospitare un happening con alcuni dei concorrenti della precedente edizione di Bake Off Italia per, consentitemi insomma di utilizzare questa espressione, lanciare la produzione dei panettoni appunto all'interno della pasticceria della casa circondariale di Taranto. Una produzione che era stata avviata già lo scorso anno con circa appunto mille panettoni e che quest'anno triplicherà, siamo appunto a 3.000 panettoni, sì, ma che appunto nelle diverse declinazioni di gusto saranno disponibili per essere acquistati presso il Mudit in via Plateia, ma anche presso alcuni bar della città. Invito chi fosse interessato a contribuire, a visitare le pagine social di noi e voi per appunto individuare il canale di vendita, ma anche dell'associazione Benefica Fulvio Occhinegro, che è in partnership appunto con la cooperativa noi e voi in questo sforzo solidale. E questo è uno dei progetti, ma ce ne sono insomma tanti e partono tutti dal presupposto che il carcere sia un luogo in cui magari si possa uscire davvero con la possibilità di una nuova opportunità, di un riscatto, di una nuova vita o quantomeno avere anche delle competenze professionali che permettano di andare insomma oltre il fatto commesso. Probabilmente lo scatto che bisogna fare è quello, pensare che il detenuto non è il fatto che commette, magari è anche quello, non è il suo reato. Quando valica le porte del carcere c'è l'uomo, non c'è più, non ci dovrebbe essere più il reato e soprattutto vorrei sottolineare la fondamentale, la straordinaria importanza del lavoro perché gli operatori penitenziari ben sanno che il trattamento rieducativo, o meglio risocializzante perché a me la parola rieducazione non piace, passa attraverso tanti tipi di attività, quelle ricreative, quelle sportive, quelle legate all'istruzione anche di rango universitario come accade a Taranto, come accade a Turi. Ma lo strumento principe, cardine della risocializzazione è il lavoro, io non mi stancherò mai di dirlo, il lavoro che è così prezioso e purtroppo è appunto così poco in carcere, in tutte le carceri italiane. Il lavoro come da ordinamento penitenziario è il più straordinario strumento di emancipazione, di responsabilizzazione, di affermazione anche delle proprie competenze, è uno sforzo che le persone detenute affrontano per supportare la famiglia, è uno straordinario strumento di risocializzazione. Io penso a due progetti in particolare, abbiamo questa mattina nostra ospite, la vice direttrice del Carmelo Magli di Taranto, Nicoletta Sidiberti, i progetti appunto riguardano Taranto, uno è quello del nazionale della LAV, lo porta solo a Taranto ed è una colonia felina di cui si stanno occupando le detenute di Taranto. Sì, sì, esattamente. C'è da tempo una colonia felina di cui si prendono cura anche le donne detenute nella sezione femminile del carcere di Taranto e personalmente ritengo questo tipo di esperienza con gli animali altamente positivo o altamente responsabilizzante, sempre insomma dello stesso tenore abbiamo attivato a Taranto, ormai da tempo anzi lo abbiamo ampliato, quindi dalla popolazione detenuta maschile è stata coinvolta anche la popolazione detenuta femminile, che è il progetto della pet therapy con il WWF, quindi tutto quello che cura dell'altro, che è in medesimazione nei bisogni dell'altro, tutto quello che supera la scarsa empatia, secondo me in carcere va assolutamente perseguito, va assolutamente inseguito anzi. Dei tanti esseri umani che lei ha conosciuto, lei parla di popolazione carceraria che è già nell'immaginifico qualcosa che diventa grande. Io lo interrompo, non amo i termini detenuto, detenuta, persona detenuta, persona ristretta, sono sempre persone. Cioè, prendiamo ospiti della struttura. Quello che le chiedo, di tutte queste donne e uomini che ha conosciuto, c'è qualche caso che porta con sé di reale rinascita in cui a un certo punto si è detta, ecco, anche solo per uno, diciamo, vale la pena continuare a lottare contro le difficoltà? Allora, questo è alla base del mio lavoro di ogni giorno. Diciamo che nella lunga formazione che ha preceduto la mia entrata in servizio, ricordo sempre che l'ispettore generale dei cappellani, dei carceri italiani, ci disse che questo lavoro andava vissuto, andava interpretato come una pesca strascico. Qualcosa, qualcosa nella rete rimarrà e qualcosa, qualcuno nella rete, in questa rete immaginaria, rimane. E noi, anche per quella sola persona, continuiamo a lavorare perché la pena sia utile. Io voglio sgombrare il campo perché trattando di questa materia spesso si può incorrere in un buonismo penitenziario di maniera. Io voglio, appunto, sgombrare il campo da questa tentazione. La pena deve essere quanto più utile possibile per le persone detenute, per chi è fuori, perché fuori ci siamo tutti, ci siamo tutti noi, ci sono i nostri figli, le nostre sorelle, i nostri genitori più o meno anziani e quindi è importante riflettere su questo. Ed è importante anche avere questa occasione di cui vi ringrazio perché il carcere può funzionare soltanto se si supera l'indifferenza, soltanto se non si tollera l'indifferenza. E questo è particolarmente importante per tutto quel mondo, anche di dati statistici, che ci dice che la recidiva è abbattuta appunto nel caso in cui le persone in detenzione abbiano un'opportunità di formazione professionale, abbiano un'opportunità di lavoro. Quando insomma le viene offerta un'alternativa, una possibilità di cambiare strada. Abbiamo tutti il diritto, una seconda chance. Concordo. A questo proposito, ricordiamo, nel carcere di Taranto si studia? Sì, si studia. Sia per il conseguimento del diploma che per l'università. Nel carcere di Taranto si fa teatro, le desiguali lo fanno con le ragazze di Città e Città. Insomma, ce ne sono tante di cose che potremmo raccontare. Sì, le opportunità, gli indirizzi di studio sono diversi dall'agrario, maltecnico, l'alberghiero, oltre ai corti di alfabetizzazione per i detenuti stranieri. C'è questa grandissima opportunità che ci è offerta dal Polo Universitale Penitenziario dell'Università di Bari, di intraprendere gli studi universitari. Questo accomuna il carcere di Taranto e il carcere di Turi, dove ci sono diversi studenti universitari. a Turi, ieri abbiamo svolto una lezione online sulla intelligenza artificiale. Quindi davvero un tema all'avanguardia, un tema importante. E queste eccellenze arrivano anche in carcere con tutte le difficoltà del caso. E danno dei risultati in termini, come ci dicevamo prima, di possibilità di costruire un'alternativa. Sì, dobbiamo aspettare i risultati della semina. Benissimo. Grazie davvero per essere stata con noi. Grazie a Nicoletta Silimberti, vice direttrice del carcere di Taranto e direttrice della struttura penitenziaria di Turi, quello storico, diciamo, un giorno la massacrerò di domande su Turi, perché è cosa che mi interessa moltissimo. Grazie per essere stata con noi, speriamo di averla ospite molto presto. Grazie a voi. Buona giornata. Grazie ancora. Grazie.